Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola in direzione Firenze. Sulla A12 un chilometro e mezzo di coda per lavori tra Versili e la diramazione Lucca-Viareggio in direzione Rosignano, sulla Fipili code a tratti tra la Strassigna e l'allacciamento per la 1 in entrambe le direzioni. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sulla Statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per un senso unico alternato tra Le Sieci e Rufina. La viabilità cittadina a Firenze per il lavoro della tramvia fino al 16 marzo di vieto di transito all'incrocio tra via Pisacane e via Mazzoni. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!